La mia opera è intitolata Il Groviglio, infatti rappresenta graficamente un groviglio, cioè un insieme di intrecci, di emozioni per lo più negative, perché appunto rappresenta non graficamente cos'è il gioco d'azzardo, bensì lo stato d'animo che prova il giocatore nel momento in cui gioca e nei momenti poi successivi che come ben sappiamo portano stati d'animo e emozioni negative. Ho usato volutamente colori scuri e ho riempito l'opera con tanti segni proprio per creare anche nello spettatore questo senso di ansia, di malumore e quindi per avvicinarsi ancora di più allo stato d'animo del giocatore. Grazie.